7 maggio Ma la via che io batto egli la conosce, se mi mettesse alla prova ne uscirei come loro. Giobbe 23 10 Dio è all'opera nella tua vita. È sbagliato paragonarsi agli altri, perché Dio ha un piano unico e personale per ciascuno. A volte i suoi metodi risultano difficili da capire, ma valgono il risultato. Non usa trucchi e raggiri per attuare il suo disegno per la nostra vita, chiede solo fiducia e obbedienza. Tanto semplice! Ascolta le tre affermazioni su Dio fatte da Giobbe tra sofferenze fisiche e problemi familiari. 1. La via che io batto egli la conosce. Dio ha stabilito la via che stai percorrendo e Lui non commette errori. Anche quando tu non riesci a capire dove è Dio, Lui sa perfettamente dove sei tu, perché non toglie mai lo sguardo da te. 2. Se mi mettesse alla prova. Dio ha stabilito per te dei periodi di prova e il tempo per condurti fuori da essa. Non sei contento che sia Lui a metterti alla prova e non le persone? Ti fideresti di qualcuno diverso da Lui come guida nei periodi di apprendimento? Assolutamente no! 3. Ne uscirei come l'oro. Quando Dio avrà finito di purificarti e modellarti, sarai come oro, splendido e prezioso. Il processo precede sempre la promessa. Tolte le scorie, vinta la paura, ci si potrebbe chiedere come un utensile tanto prezioso sia potuto uscire da materiale così scadente. Qualcuno potrebbe addirittura dubitare che tu sia la stessa persona. Se te lo dovessero chiedere, rispondi semplicemente No, non lo sono. Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti. Iscriviti al nostro canale